Maria, recitiamo il Santo Rosario, Misteri dolorosi. Grazie a tutti. Misterio doloroso, il primo misterio doloroso contemplato l'agonia d'uomo in ossi e su Cristi in orto Gezzemani. Gesù si ritira nell'occhio a prega, tristezza ed angoscia comincia a provare. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Pater nostro, qui è sinceri, santificiatur nome in Tum, adveniat regnum Tum, fiat volontas Tua, sicuti in cielo e in terra. Pane il nostro quotidiano da nobis odio, ete timita nobis debita nostra. Sicute nostre dimittimus debitoribus nostris, ete non si intuca in tentazione, non si libera nostra malo. Amen. Ave Maria, grazia, prena, Dominus Tecum, benedita e tui morieribus, beneditos fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora, pro nobis peccatoribus, nunc et in ora, mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, Dominus Tecum, benedita e tui morieribus, beneditos fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora, pro nobis peccatoribus, nunc et in ora, mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, Dominus Tecum, benedita e tui morieribus, beneditos fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, dominus tecum, benedicta tui morieribus, benedictus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, dominus tecum, benedicta tui morieribus, benedictus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, dominus tecum, benedicta tui morieribus, benedictus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, dominus tecum, benedicta tui morieribus, benedictus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, dominus tecum, benedicta tui morieribus, benedictus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, dominus tecum, benedicta tui morieribus, benedictus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia, prena, dominus tecum, benedicta tui morieribus, benedictus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, anche in ora mortis nostri. Amen. Gloria, Patria e Filio, Espiritu e Santo, Icutera, principio, et nunc et sempre, et in secola, secoloru. Amen. O Ieso, dimite nobis, te vita nostra, libera nostra, ben inferni. Leto fincerum, omnes animas, preserti millas, qui maxime indigen misericordia tua. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Secondo misterio doloroso contemplato, Flagellazio Dominos Jesu Christi. E poi flagellato con gran crudeltà, Per il Salvatore nessuna pietà. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Pater, quies in Cielo, santificato ornomen tu, advegna regno tu, fiat voluntas tua, secut in Cielo e d'interno. Pane nostrum, quodidiano da nobis, odia, dimite nobis, debita nostra, sicute nos dimittimus, debitoribus nostris. E te nos inducas in tendationem, sed libera nostra malum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictas frutto vendres tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictas frutto vendres tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictas frutto vendres tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictas frutto vendres tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictas frutto vendres tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictas frutto vendres tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domnus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus frutto vendres Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domnus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus frutto vendres Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domnus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus frutto vendres Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domnus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, et benedictus frutto vendres Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria, Patria et Figlio, etus Spiritus Santo, si putera ti in principe et nunc et sempre, et in secura secolo rumame. Omi Iesu, dimite nobis debito, libera nostra, di in inferno, deduchi in cielo, amnestana, prensi qui mi, coi maximi di questi ricordi autori. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Il terzo mistero doloroso contemplato il coronato Stine, Domino Sì, Su Cristo. Ci volge lo sguardo tra pene e dolore, il capo trafitto dispine al Signore. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Grazie. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Grazie. 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 Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Il quarto mistero e doloroso contemplato via crucis domini nostri su Cristo. Seguiamo il Signore che avvolgo Tapa, per noi la sua croce salvezza sarà. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. 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 Ave, ave, ave Maria. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Ave Maria, grazie a te, prena, dominus te, con benedita tui, morieribus, beneditos frutus vendris tu, Iesus. Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, nuque, tin ora, mortis nostre, amici. Gloria, Padre, et siglio, et spirito, et santo. Sicutera, principio, et nunc et sempre, et in secula, et coloro. O Iesus, in te nobis, tui vita nostra, libera nostra, vini infermi, retu gincere omnes animas, presenti millas, di maximi, misericordia tua. Salve Regina, madre misericordiae, vita dolce do, Iesus, nostre, amici. A te clamamus, exsure fili dieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in at lacrima rompan. Ea, ergo, invocata nostra, e los tuos misericordiae, soculos, ad nos coperti. Et Iesus, benedicto frutus vendris tui, nobis, postochem silvius, benedit. O, plenus, opia, o, dulces, leggo maris. Kidi Eleison Christe Eleison Christe Eleison Christe Audinos Christe Audinos Christe Exaudinos Padre, Padre de Ciaris Deus Miserere Nobis Filho de Dentro Monte Deus Miserere Nobis Spiritus Santi Deus Miserere Nobis Santa Trinitas Unus Deus Miserere Nobis Santa Maria Ora Pro Nobis Santa Dei Genitrix Ora Pro Nobis Santa Virgo Virti Noma Ora Pro Nobis Mater Christi Ora Pro Nobis Mater Ecclesie Ora Pro Nobis Mater Divine Grazie Ora Pro Nobis Mater Purissima Ora Pro Nobis Mater Castissima Ora Pro Nobis Mater Inviolata Ora Pro Nobis Mater Intermedata Ora Pro Nobis Mater Amabilis Ora Pro Nobis Mater Admirabilis Ora Pro Nobis Mater Boni Consigli Ora Pro Nobis Mater Creatoris Ora Pro Nobis Mater Salvatoris Ora Pro Nobis Virgo Prudentissima Ora Pro Nobis Virgo Veneranda Ora Pro Nobis Virgo Predicanda Ora Pro Nobis Virgo Potens Ora Pro Nobis Virgo Cremens Ora Pro Nobis Virgo Fidelis Ora Pro Nobis Speculum Justitie Ora Pro Nobis Sede Sapienzie Ora Pro Nobis Causa Nostre Letizie Ora Pro Nobis Ora Pro Nobis Fas Spirituale Ora Pro Nobis Ora Pro Nobis Fas Onorabile Ora Pro Nobis Fas Insigne Devozionis Ora Pro Nobis Tosa Mistica Ora Pro Nobis Ora Pro Nobis Turis Davidica Ora Pro Nobis Turis Edmurnia Ora Pro Nobis Domos Aurea Ora Pro Nobis Federis Arta Ora Pro Nobis Piano Azzeri Ora Pro Nobis Stella Matutina Ora Pro Nobis Saros Infirmorum Ora Pro Nobis Refugium Peccatorum Ora Pro Nobis Consolatrix Afflictorum Ora Pro Nobis Axilium Christianorum Ora Pro Nobis Regina Angelorum Ora Pro Nobis Regina Patriarcharum Ora Pro Nobis Regina Profetarum Ora Pro Nobis Regina Apostolorum Ora Pro Nobis Regina Martirum Ora Pro Nobis Regina Confessorum Ora Pro Nobis Regina Santorum Omnium Ora Pro Nobis Regina Sinerabio Originali Concetta Ora Pro Nobis Regina Incerum Assunta Regina Sagratissimi Rosari Regina Famiglie Regina Pacis Regina Missionum Regina Ordinis Minorum Angus Dei Pittoris Peccata Monti Parce Nobis Domine Angus Dei Pittoris Peccata Monti Angus Dei Pittoris Peccata Monti Ora pro nobis Santa Dei Genitrix U Dine Ficiam Promissioni Pus Christus Oremos Deos Amén Amén Orazio Santo Iosef A Te Beate Iosef In tribolazione nostra Confuggimos Amén 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 come potestate tenebrare accertamente il cielo ad estro, e sicuramente, vedo in Gesù, e sulle riviste vede discrimine, ita nonche cresciam santa Dei, abostilibus in silis, atque perpetuo tete padrucino, e te quec semptat, sempre ten anque in cielos, beatitudine asseghi possimos. Amo. Per questo le sante Urgenze, Pater nostro, e fiesi in Cieli, santificetur, nome in Tum, adveni a te regno in Tum, fiat volontas Tua, sicuti in Cielo e in Terra. Pane nostro quotidiano, vanno più sodie, et iti tuta nobis debita nostra, uta nosti mitimus debitoribus nostres, ete nosti in Duc in tentazione, sedi liberi allo stesso. Amen. Ave Maria, grazia prena, Dominus tecum, benedita tui morieribus, beneditus fruttus vendris tu, Iesus. Santa Maria, tei, ora pro nobis peccatoribus, nu che ti noro a mortis nostre. Amen. Gloria, Padre, et Hidia, Spiriti Santo, Sicutera, et in principio, et nunc et sempre, et in secolo a secolo. Amin. 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 Grazie. Qui si vede appunto ai piedi della Madonna e di Gesù Bambino il Papa Pio V, che appunto durante il pericolo dell'invasione turca-islamica, che appunto sta per portare all'invasione in Europa e quindi anche fino in Italia e Roma, ecco che San Pio V richiamò le frotte cristiane, la difesa della cristianità, ma poi soprattutto richiamò tutti i fedeli cristiani a pregare, soprattutto con la Rece del Rosario. E fu proprio la Rece del Rosario che determinò poi la vittoria con l'espincimento appunto della frotta turca a Lepanto. Questo è nel XVI secolo e il Papa San Pio V ebbe, quando ci fu la vittoria, proprio una visione a Roma mentre era in riunione con alcuni cardinali. E quindi interruppe quella riunione e ringraziò, invitò anche gli altri a ringraziare la Madonna per il suo particolare intervento. E poi il Papa per riconoscenza volle istituire anche la festa in onore della Madonna, del Rosario, o la Madonna delle Vittorie, Regina delle Vittorie, il 7 ottobre appunto. Quindi ecco, il Rosario è una preghiera molto importante, proprio raccomandata dalla Madonna, dai Vescovi, dai Santi, dai Papi. E quindi è una preghiera importante che ci santifica, ci preserva dai mali che potrebbero dominare la nostra anima e risolve anche tutti i mali, sia personali o familiari o sociali. Quindi anche in qualsiasi situazioni, il Rosario appunto viene in nostro aiuto. Quindi anche quelle crisi che noi abbiamo nell'ambito della nostra società si supereranno proprio per tenersi la Resia di Rosario. Quindi cosa è lo devole la Resia quotidiana, personali, famiglia, comunità? Cerchiamo di essere sempre costanti nella Resia quotidiana, invidiamo anche gli altri a pregare il Rosario. Quindi anche poi soprattutto nei mesi di marcio, però poi ecco, invidiamo gli altri anche a continuare ogni giorno nella Resia del Rosario. Credo la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Amén. E l'ora che pia, la spina fede, che notte ci invia, venda vederce. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, ave, Maria. Grazie.